Musica 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 Non sono così fuori, non sono così fuori, non sono così fuori, le cose si ponen bene, perché stiamo molto fuori. Alla oscura liste, ragazzi, perché non stiamo facendo il lino ogni volta, per lì vanno a vedere che non bisogna recargarci il lino, perché si passiamo, lo possiamo sognare. Aica Tantiara Arturo Litton Aica Tantiara Arturo Litton Aica Tantiara Arturo Litton Aica Tantiara Arturo Litton Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!